Allora, beh, allora ci si colloca nello scaffale degli oggetti smarriti, si aspetta di essere cercati di nuovo e si resta poi a occhi aperti di notte, aspettando il passo di chi torni a reclamarci, ma purtroppo nessuno torna e dopo il giusto tempo si è di nuovo se stessi, sciolti dal possesso, liberi perché si diventa liberi dopo essere stati perduti.